Ciao ragazzi, oggi parliamo di piano B. Che cosa intendo piano B? Intendo di iniziare a vedere il mercato anche da un altro punto di vista. Mi spiego meglio. In questo canale parliamo quasi sempre di criptovalute, di bitcoin in generale, tante interviste, tanti contenuti perché penso che il settore delle cripto sia ancora la migliore opportunità che abbiamo per chi soprattutto ha intenzione di creare un portafoglio. Non tanto per chi lo deve difendere ma tanto per chi lo deve ancora creare proprio perché il rischio rendimento è sicuramente e proporzionalmente molto sbilanciato verso il rendimento in vista anche del prossimo halving del 2024 eccetera eccetera. Ma qui non parleremo di cripto bensì vi vado a condividere un mio ragionamento e una mia strategia di investimento che ho iniziato da ormai più di un mese e che vi voglio condividere qua sul canale. Un piano B. Il mio piano B riguarda un investimento a PAC sul Nasdaq. Il Nasdaq per chi non lo sapesse è un indice che racchiude le migliori aziende tecnologiche statunitensi. Quindi parliamo di Amazon, Google, Facebook eccetera eccetera. Parliamo delle migliori e principali aziende tecnologiche degli Stati Uniti. Bene perché ho deciso proprio di investire sul Nasdaq e non in altri indici come potrebbe essere l'SP500? Quanto ho deciso di investire? Qual è il mio arco temporale? Qual è la mia strategia e che cosa sto utilizzando per portarlo avanti? Vedremo tutto questo in questo video quindi mi raccomando guardalo fino alla fine perché sarà pieno di informazioni che potrebbero essere interessanti anche per te. Non devi assolutamente copiare quello che faccio, non sono consigli finanziari ma insomma ti può dare uno spunto per poter ragionare. Lascia un like e iscriviti al canale se ti piacciono gli argomenti riguardanti la libertà finanziaria. Iniziamo subito. Allora, e quindi eccoci qua. Adesso vi faccio vedere che cosa vado ad utilizzare per il mio piano di accumulo sul Nasdaq. Vi faccio anche un regalino quindi vi consiglio di continuare a guardare questo video e di utilizzare il link che vi lascio sotto in descrizione. La piattaforma di cui stiamo andando a parlare si chiama Trade Republic, è stata molto famosa per il via dei vari bonus che dava e anche in questo caso vi lascio un bonus che va dai 10 ai 20 euro se depositate e comprate la vostra prima azione. Come potete vedere io qua ho solamente in questo momento 600 euro perché il mio piano di accumulo consiste nel comprare 200 euro ogni 15 giorni del Nasdaq appunto. Questa è l'applicazione veramente molto user friendly per questo che ve la consiglio. Tra l'altro sono presenti un sacco di TF, azioni, cripto, insomma diversi indici interessanti sul quale si può investire. E come potete vedere io qua ho addirittura un countdown che mi dice quanto manca al mio prossimo acquisto. Perché decido di comprare due volte al mese 200 euro per un totale di 400 euro al mese? Semplicemente perché voglio primo rimanere con una cifra abbastanza abbordabile che non mi pesi più di tanto in vista appunto del mio reddito, del fatto che comunque sono principalmente sposto in cripto. E poi perché questo appunto è un investimento che voglio portare avanti per un lungo periodo di tempo. Il mio orizzonte temporale è infatti di 7 barra 10 anni. Cioè vorrei iniziare una fase di ribilanciamento barra disinvestimento prima dei miei 40 anni. Quest'anno ho fatto 30 anni quindi l'obiettivo diciamo sarebbe tra i 37 e i 40 anni chiudere questo investimento che appunto rappresenta un piano B. E come potete vedere funziona in modo molto semplice qua si va a settare possiamo avere la nostra cronologia con i nostri acquisti e qua ci dice anche quando sarà la prossima volta che si andrà ad acquistare. Si può modificare tranquillamente metterlo che ne so in modalità mensile trimestrale in base a quello che volete fare voi e lui automaticamente andrà ad eseguire questo ordine di acquisto. La piattaforma è in generale molto carina sia a livello grafico che a livello proprio di user friendly. È molto molto accessibile e facile da utilizzare. Ve la lascio sotto in descrizione. Come potete vedere già da Yahoo Finanza ma anche dallo stesso sito del Nasdaq qua va a comparare le performance del Nasdaq rispetto al SP500. Cioè le 500 migliori aziende generali americane degli Stati Uniti. E come vedete il Nasdaq dal 2008 al 2021 ha sempre performato meglio. Soprattutto anche il 2020 ovviamente è stato un anno particolare perché le aziende tecnologiche sono cresciute tantissimo in vista anche del lockdown e del fatto che tutti stavano in casa. Poi c'è stato ovviamente anche un'altra occasione in cui l'SP500 ha performato meglio e si tratta del 2016. Ma quasi tutti gli altri anni e anche il 2021. Eccolo qua sì il 2021 il Nasdaq non ha performato benissimo anche perché arrivava appunto da un anno incredibile che era quello del 2020. Dopo vedremo bene anche le percentuali. In questo caso ragazzi come potete vedere il Nasdaq performa sì meglio ma perde anche meglio. Perché ovviamente perde anche peggio scusate perché ovviamente è un indice molto più volatile, molto più aggressivo e rischioso dell'SP500. Motivo per cui in realtà mi piace il fatto che come vedete anche qua il ritorno cumulativo circa è stato del 620% contro un'SP500 che ha avuto un ritorno del 250%. Con ovviamente una volatilità annualizzata più alta rispetto alla sua diciamo controparte. Sempre per capire perché investire su un indice ecco qua le performance. Qui possiamo vedere dal 2004-2005 fino al 2021 quelle che sono le performance del Nasdaq. Che come potete vedere ha sempre chiuso anni verdi. Quindi è sempre andato in positivo tranne solamente in due occasioni. Quindi il 2008 che ha avuto un crollo importante del 42%. Qua è stata ovviamente una tragedia. E poi il 2018 che in realtà ha avuto un crollo piccolino del meno 1,64. Sono però seguiti incredibili recuperi come per esempio il 2009 con un 51%. Quindi immaginatevi chi è riuscito a comprare in questa fase qua l'anno dopo ha avuto una performance incredibile. Poi il 2010 un altro 18%. Poi un po' di rallentamento nel 2011. Vi ricorderete le crisi che c'erano, si discuteva, è arrivato Monti da noi. Insomma vabbè lasciamo perdere. Poi il 2012 con un altro 16%, un 34%, eccetera eccetera. Quindi performance che vanno dal 10 al 30% in media annualizzato. Tranne appunto questi due casi. E poi anche il 2022 come possiamo vedere qui in realtà è un anno fortemente negativo. Non solo sul Nasdaq, lo sappiamo. Il settore macroeconomico in generale è piuttosto messo male. Il macro fa abbastanza schifo. Ed è proprio questo il motivo che mi ha portato ad investire e a spingermi oltre sul Nasdaq. E proprio il fatto che siamo davanti forse ad una delle peggiori crisi degli ultimi decenni. Quindi credo che questa sia un'opportunità esattamente come storicamente ci fa vedere questo dato, questo storico rendimento. Ok ragazzi? In questo momento siamo a circa o meno 30% da inizio anno ad oggi per quanto riguarda il Nasdaq. Anche basta prendere gli ultimi sei mesi per vedere più o meno le stesse performance. Nell'ultimo mese siamo in una fase di piatta, diciamo, una fase ferma in cui ha perso quasi un mezzo punto percentuale. E quindi in realtà ragazzi le performance del Nasdaq sono abbastanza orribili nell'ultimo periodo. E questo mi consente con il mio pack di investire a ribasso. Perché investire sul Nasdaq e non in altro? Beh, prima di tutto proprio perché io quest'anno ho intenzione di aumentare i miei piani di risparmio. Quindi le crypto in questo momento potrebbero essere il mio piano A, i Nasdaq potrebbero essere il mio piano B, ma poi vorrei mettere un piano C, piano D, eccetera, eccetera. Andando anche a spalmare il rischio, iniziando a ragionare con un orizzonte più a lungo termine. E anche in vista del fatto che questa è una fase di mercato molto ribassista, secondo me è forse la fase migliore in cui iniziare questo tipo di investimento. Perché ragazzi ricordatevi che le cose non vanno a zero, il mondo non finisce domani. A meno che le terza guerra mondiale, allora lì vabbè, a meno i soldi non ci frega neanche più niente da averli. Ma se crediamo che le cose si andranno a risolvere, ecco che sfruttare questi momenti nel lungo periodo sono sempre delle grandissime opportunità. E l'abbiamo anche visto poi a livello di rendimento. Quindi questo è più o meno al momento il mio piano di accumulo. Sono abbastanza convinto che raggiungerò alla fine del mio investimento un capitale di circa 80 barra 100 mila euro. Questo è un po' il mio piano andando a confrontare i vari rendimenti. Poi è ovvio che il passato non è garanzia del futuro, però tendenzialmente questo è un po' l'obiettivo, il target che vorrei raggiungere alla fine di questo piano di accumulo. Un consiglio che posso dare a tutte le persone che vogliono iniziare un piano di accumulo è quello appunto di iniziare con una cifra bassa che vi permette di essere tranquillamente affrontata mese dopo mese senza troppi sforzi, perché se è una cifra che non riuscite poi a seguire mensilmente potrebbe essere un problema, saltare un mese eccetera eccetera, il pack deve essere fatto rigorosamente come è stato pensato. Al massimo si può creare un pack diversificato con un aumento di capitale in certe condizioni di mercato, cosa che tra l'altro vorrei ragionare magari questo inverno o nei prossimi mesi barra anni a seconda di come andrà il mercato, perché 400 euro al mese per ora sono una cifra forse ancora un po' bassina rispetto al mio target. Però per il momento ho deciso di stare tranquillo, di iniziare con un pack moderato proprio in vista del fatto che comunque siamo in bear market, i soldi girano di meno eccetera eccetera. Questo è quello che sto facendo io, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi piace questa strategia, se ne conoscete altre, se anche voi utilizzate questa piattaforma, se utilizzate qualcos'altro, insomma sono veramente curioso di sapere anche voi che cosa ne pensate, come al solito sono qui per condividere i miei investimenti, i miei pensieri, ovviamente non sono mai consigli finanziari ma fate le vostre ricerche, questo è importantissimo. Io ti ringrazio di aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!